Sono stato 28 anni in giro per questi palazzi, ora è importante l'8 e il 9 di giugno andare a votare perché si eleggeranno i nuovi deputati al Parlamento europeo e ricordiamoci perché è importante, perché l'80% delle leggi che approviamo in Italia sono frutto delle leggi che si approvano qui a Bruxelles. Si decide a Bruxelles e poi si trasformano in norme italiane alla Camera e al Senato. E per contare di più in Europa bisogna scegliere Forza Italia. Perché bisogna scegliere Forza Italia? Perché Forza Italia è il partito popolare europeo. Il partito popolare europeo è il primo partito che avrà il Presidente della Commissione europea, il Presidente del Parlamento europeo, quindi è il partito che dà le carte. E allora se vogliamo far contare di più l'Italia dobbiamo avere più deputati europei di Forza Italia. Insomma votare Forza Italia è anche un voto utile. Barra il simbolo e scrivi italiano.